L'amministrazione comunale di Gela ha fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità e si sta già adoperando per firmare il protocollo d'intesa, eventuali ritardi saranno da debitare solo ed esclusivamente al Presidente della Regione, Rosa di Crocetta. E' quanto rimarcato ieri sera durante i lavori del Consiglio Comunale che ha trattato la vicenda Porto Rifugio. E quando parliamo di Porto Rifugio ci riferiamo al mancato inizio dei lavori di dragaggio. Proprio su questo tema è stata presentata un'interrogazione che porta alla firma del capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta, condivisa da Virginia Farruggia, Movimento 5 Stelle e Salvatore Scerra, Forza Italia. Presente ieri sera una folta delegazione di operatori portuali legati al Comitato Porto del Golfo di Gela. L'appello è rivolto direttamente al Governatore della Sicilia. Noi, vista la situazione di ieri sera al Consiglio Comunale, che è stato detto a Chiara Lettere che adesso dipende dalla Regione, l'appello è fatto al signor Crocetta, rappresentante della Regione. Diciamo e chiediamo come popolo gelese di darsi una mossa per poter finalmente vedere un portofruibile a Gela nella sua città dove lui è nato. E quindi mi sembra anche giusto che si dia una mossa e levi questa vergogna in giro perché è una vergogna. Se non dovessero arrivare segnali incoraggianti dalla Regione, il Comitato è pronto a scendere nuovamente in campo. I lavori di dragaggio al Porto non sono più differibili. Siamo pronti, hanno detto i componenti del Comitato, ad intraprendere qualsiasi forma di protesta pacifica pur di raggiungere l'obiettivo. In caso di ancora ritardi per questo tipo di operazione per il Porto, le varie associazioni abbiamo pensato e abbiamo deciso di unirci e formare un gruppo di protesta di inoltranza per quanto riguarda la situazione Porto. E questo è giusto che le varie politiche gelesi e regionali lo sappiano. Siamo stanchi, siamo arrivati, non ne possiamo più. Ci serve il Porto. Quindi è meglio che si diano una mossa sia a Regione, a Amministrazione Comunale. Non ci importa a noi di chi è la colpa, se è della Regione, se è dell'Amministrazione Comunale perché non si capisce più nulla. Ci passano prima dalla Regione, ci passano dal Comune, dal Comune alla Regione. È meglio che si mettono comunque d'accordo fra di loro e che il Presidente della Regione Crocetta si dia veramente da fare per questa situazione. Grazie a tutti.